Il concorso nazionale 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 Eccoci, siamo qui per l'ultima puntata dal Motor Show di Bologna e concludiamo in bellezza. Non dico a caso questo, concludiamo in bellezza perché qui, di fianco a me, ho delle vere bellezze. Sono i primi anni, giustamente, avendo 16 anni, sono giovanissima. Grazie a tutti, grazie a tutti. Il piccolo passaggio di Roma, il capitale del mondo, dove l'esperienza che è stata fatta tantissima, l'hanno fatto di non c'è il generale, in cui è quello molto classista di questo film. La Shara, pensava di aver vinto lei, ha cattito... La Shara, pensava di aver vinto lei, ha cattito... Eh? La tua stava... La tua stava sulla vista qua. Puoi giurarlo? La tua ragazza di cambiare la vita. Wow... Puoi giurarlo? Puoi giurarlo? Puoi giurarlo? Ok... Ok, adesso lo trovo la tua nuova e adesso l'applauso perché sono belle! I wish I could make it easy Easy to love me Still I'll reach I'll find a way I'm stuck here in between I'm looking for the right words to say I'm slowly drifting Yo, quanto flammable? Sono da parte d'ambi in Italia Sopriamo l'Italia Ha dei bambini veramente bellissimi E ripartiamo l'attacco In realtà siano dai paesi Come mai? Come mai? Come mai? Come mai? Come mai? Come mai? No, 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 no.